Il misterioso prete Gianni, un mito medievale che ha affascinato per secoli. Il prete Gianni è una figura misteriosa che ha affascinato l'immaginario medievale per secoli. La sua leggenda narra di un potente sovrano cristiano orientale, signore di un immenso regno che si estendeva dalle giungle indiane ai ghiacci dell'estremo nord. I tartari erano suoi sudditi, gli pagavano tasse ed erano l'avanguardia delle sue truppe. La prima menzione del prete Gianni risale al XII secolo, in un resoconto di un pellegrino tedesco, Ottone di Frisinga. Ottone narra di aver incontrato un gruppo di tartari che gli parlarono di un misterioso re cristiano che viveva in Oriente. Il re, secondo i tartari, era un uomo saggio e potente, e aveva un grande esercito di guerrieri. La leggenda del prete Gianni si diffuse rapidamente in Europa, e fu alimentata da numerosi altri resoconti di viaggiatori e pellegrini. Nel XIII secolo, fu pubblicata una lettera in latino che affermava di essere stata scritta dal prete Gianni stesso. La lettera, che fu tradotta in molte lingue, descriveva in dettaglio il regno del prete Gianni, che era ricco di tesori e di meraviglie. La leggenda del prete Gianni ebbe un'influenza significativa sulla cultura medievale. Fu utilizzata per giustificare le crociate, e fu anche fonte di ispirazione per numerosi artisti e scrittori. Nel ciclo bretone, ad esempio, il santo graal è trasportato nel regno del prete Gianni. L'identità del prete Gianni è ancora oggi oggetto di dibattito. Alcuni studiosi ritengono che possa essere stato un sovrano realmente esistito, come il re etiope Lalibela. Altri ritengono invece che si tratti di un personaggio puramente leggendario. Indipendentemente dalla sua reale identità, il prete Gianni è una figura che ha saputo affascinare l'immaginario collettivo per secoli. La sua leggenda è un simbolo della speranza e della possibilità di un mondo in cui cristiani e musulmani possono vivere insieme in pace. Le diverse versioni della leggenda La leggenda del prete Gianni si è diffusa in molte versioni diverse nel corso dei secoli. In alcune versioni, il prete Gianni è un uomo saggio e pacifico, che desidera aiutare la cristianità nella sua lotta contro i musulmani. In altre versioni, invece, è un uomo arrogante e bellicoso, che desidera conquistare il mondo. In alcune versioni, il regno del prete Gianni è situato in India, in altre in Etiopia, in altre ancora in Cina. La sua estensione geografica è altrettanto varia. In alcune versioni, il suo regno si estende dall'oceano indiano ai monti Urali, in altre dai ghiacci dell'estremo nord all'Africa subsahariana. L'influenza della leggenda La leggenda del prete Gianni ha avuto un'influenza significativa sulla cultura medievale. Fu utilizzata per giustificare le crociate, e fu anche fonte di ispirazione per numerosi artisti e scrittori. Nel ciclo bretone, ad esempio, il santo Graal è trasportato nel regno del prete Gianni. Il Graal, nella tradizione medievale, è un oggetto sacro che simboleggia la salvezza. La sua presenza nel regno del prete Gianni suggerisce che il regno del prete Gianni è un luogo di pace e di armonia, dove la cristianità può prosperare. La leggenda del prete Gianni ha anche avuto un'influenza sulla geografia. Nel corso dei secoli, numerosi esploratori hanno cercato di trovare il regno del prete Gianni. Le loro esplorazioni hanno contribuito a mappare il mondo e a diffondere la conoscenza di nuove terre. La leggenda del prete Gianni è ancora oggi oggetto di interesse. È stata oggetto di numerosi studi e pubblicazioni, e ha ispirato numerosi film e opere teatrali. La leggenda del prete Gianni è un simbolo della speranza e della possibilità di un mondo in cui cristiani e musulmani possono vivere insieme in pace. È anche un simbolo dell'avventura e della scoperta, della ricerca di nuovi mondi e di nuove conoscenze.